Ciao, sono Luca di Mr. Gadget, è venuto il momento di incontrare uno dei prodotti più attesi dell'anno e probabilmente sarà anche uno dei più acquistati nei prossimi mesi. Ho voluto aspettare qualche giorno prima di presentarvi una recensione perché volevo conoscere a lungo tutti i dettagli del nuovo iPhone X. Di solito, subito dopo la presentazione, ci troviamo belli seduti ad un tavolo con iPhone in mano per capire come funzioni. Ma è vero che iPhone ha una serie di difetti? Ma è vero che il Face ID è così fastidioso? Allora, soprattutto, quante volte ci becca e quante volte no? Proviamo a vederlo insieme. Il telefono è fermo in questo momento? Io lo metto davanti a me e guardate il lucchetto mostra che il telefono in questo momento è sbloccato. Basta un movimento di questo genere perché il telefono a questo punto sia pronto per essere utilizzato. Se non ci credete che non sbagli mai, riproviamo. Telefono è fermo e spento, lo sollevo ancora una volta, vedete, sbloccato e il telefono se ne va. Ma può essere che qualcuno di voi abbia un dubbio. Come funziona il telefono se ho un cappello addosso? Ma non è difficile provare, no? Troviamo un cappello, eccolo, lo mettiamo in testa, proviamo immediatamente lo sblocco. Allora, telefono che, vedete, è spento ed è fermo, lo metto davanti al mio viso e il telefono è, voilà, sbloccato. Ma a questo punto, e se ci fosse anche una sciarpa? Controlliamo la sciarpa e vediamo anche quella. Meno male che non è ferragosto perché altrimenti sarebbe una prova difficile. Vediamo se riesco a non ostruire il microfono. Una faccia che blocchi magari anche parzialmente il mio viso. Vediamo come si comporta. Ancora una volta, telefono bloccato, lo mettiamo davanti a me, tac, e il telefono è sbloccato. Beh, insomma, direi che tutto sommato, magari anche senza questo cappello in testa, la fidabilità mi sembra sia garantita. Qualcuno di voi mi ha chiesto, ma come si comporta invece Face ID quando un telefono è sul tavolo? Eccolo qua, tac, appoggiato sul tavolo e guardando il telefono, mentre sono in una posizione che è quella di una persona seduta, il telefono si è sbloccato senza alcun tipo di problema. Ho usato un'angolazione di questo genere per non ostruire le informazioni date al telefono con quelle che sono le sembianze della fotocamera. Se vogliamo possiamo anche riprovare per vedere com'è il funzionamento e vedete che ancora una volta iPhone si è sbloccato. Ok, ok, ma al buio che cosa funziona? Beh, solleviamo il telefono, guardiamolo e voilà, sbloccato. Ecco, dopo tutte le prove relative a Face ID, il nuovo iPhone X in quella che io definisco tutta la sua bellezza. Io ve lo mostro in questo momento anche con una delle cover nella versione Super Light, questa non è una di quelle ufficiali, in particolare questo è un modello di Cellular Light, vedete, molto leggero che quindi mantiene essenzialmente l'aspetto inviolato del telefono. Telefono che da un lato rappresenta solo il bilanciere del volume, il volume rocker, la classica levetta di iPhone per il cambio poi del stato da suoneria a silenzioso, su questo lato il pulsante d'accensione e il cassettino per la nano SIM, sul lato inferiore l'attacco lightning port, microfono e altoparlante e poi sulla parte posteriore la doppia fotocamera. Ecco, questo è sempre stato uno dei temi dibattuti, cioè quanto traballa il telefono nel momento in cui si vuole scrivere qualcosa. Proviamo, ciao. Ecco, vedete che in effetti, così in versione diciamo pura, senza alcun tipo di cover, questo effetto del traballamento un po' si sente. Se però, invece, vedete, anche solo con una cover di questo genere, vedete che l'effetto viene praticamente quasi completamente annullato, no? E questo ovviamente, secondo me, è molto meglio nel momento in cui si usa il telefono. Altra caratteristica è quella, vi mostro, è quella essenzialmente del controllo delle funzioni. Allora, questo tasto sulla parte bassa, questa linea sulla parte bassa, vi fa vedere l'area con cui interagite quando volete utilizzare, ad esempio, il ritorno alla home, perché può servire tanto per uscire dalle applicazioni quanto, ad esempio, per tornare velocemente alla home, sostituendo la pressione del tasto, quanto, ad esempio, per rimpicciolire, vedete, la dimensione del display. Vi ricordo, tra l'altro, che dovete attivare questa funzione nelle impostazioni generali della voce accessibilità e poi gestire con lo swipe, invece, nella parte bassa, vedete, del display, il passaggio da un'azione all'altra. Questo è un funzionamento molto semplice. Se volete, invece, attivare, vedete, il multitasking, basta uno swipe verso l'alto e basta fermarsi. Quando poi chiudete, premete, scusate, sulle applicazioni aperte, potete scegliere di chiudere quelle che, insomma, non volete più utilizzare. Quindi, essenzialmente, queste le funzionalità di iPhone legate alle gestures. Velocità del software. Come sempre, quando parliamo di iPhone, diciamo che il software è il problema minore. C'è un senso che è sempre di solito garantito il fatto che con iOS, a parte quando ci sono prodotti magari che sono un po' datati, che hanno qualche anno di vita, la reattività sia sempre al top. Viene, ovviamente, questo garantito anche con il nuovo processore A11 Bionic, o A11 Bionic. Ecco, per quanto riguarda il display, 5,8 pollici di diagonale, 1125 x 2436 pixel. La particolarità, ovviamente, più singolare è quella della canotta nella parte più in alto. E vi dico, a me piace molto questa idea di avere due posizioni che permettono, da una parte, di trovare quelle che sono le notifiche e dall'altra, invece, scusate, il centro di controllo. Come sempre, il centro di controllo poi vi permette di usare il 3D Touch, quindi di entrare ulteriormente nelle funzioni che vengono gestite proprio da questo spazio. Insomma, 3D Touch, che viene utilizzato molto, ovviamente, all'interno del telefono, rimane una delle funzionalità importanti per quanto riguarda iPhone e, in particolare, e in generale, iOS. Fotocamera. Oggi avete la possibilità di gestire lo zoom del telefono come su iPhone, o andando direttamente da 1 a 2, oppure con un movimento di questo genere sul display. Potete, se no, scegliere le varie modalità. La modalità ritratto, vedete, vi dà la possibilità di scegliere alcuni tipi di esposizione diversa del soggetto. Vi ricordo, tra l'altro, che questa è comunque, tutto sommato, una modalità demo, una modalità beta. E quindi, come tale, va considerato il fatto che ci potrebbe essere qualche problema e quindi ancora qualche imperfezione nell'utilizzo. Nonostante questo, secondo The ExoMark, questa è la miglior fotocamera in assoluto, fotocamera in assoluto per uno smartphone, mentre nella videocamera il risultato non è altrettanto eccellente. Quindi, foto davvero al top, video così così. Batteria da 2716 mAh, che a me non ha mai dato alcun tipo di problema, nel senso che arrivo a fine giornata senza tanti stress. Cerchiamo di sentire anche l'audio. Apple è sempre riuscito, è sempre riuscita a trovare veramente un rapporto tra volume e qualità dell'audio al top. Adesso aspettiamo che si colleghi. Sentite il volume che viene messo? Io sento addirittura la pressione del volume sul dito che è fortissima. E l'audio, come avete sentito, è ottimo di qualità perché c'è una definizione dei bassi che forse nemmeno il boom sound di HTC riesce a garantire. Davvero, davvero ottimo. Questo è un prodotto che è certificato IP67, quindi resiste ad acqua e polvere. Avevo lasciato tra l'altro la cover. Resiste ad acqua e polvere andando fino a un metro per 30 minuti. Se volete attivare il meccanismo di Apple Pay dovete semplicemente premere due volte nella parte laterale e vedete, arriva la vostra carta. Adesso il volto non ha riconosciuto il volto perché c'è la telecamera di fronte, quindi volendo si può utilizzare comunque il codice per il pagamento. Se dovete invece attivare Siri basta premere a lungo sulla parte laterale per gestire il vostro telefono con, secondo me, un livello di risposta discreto di Siri. Non è, secondo me, il miglior assistente virtuale in questo momento disponibile sul mercato, mentre per la dettatura vocale è una delle migliori soluzioni in assoluto. Realtà aumentata è una cosa a cui magari dedicheremo poi uno spazio a parte perché è uno degli aspetti che sono veramente esaltati dal nuovo processore, il nuovo A11 Bionic. Insomma, queste le impressioni d'utilizzo dopo quasi due settimane ormai, dal giorno in cui ho cominciato ad utilizzarlo, la bontà di questo prodotto non cancella il fatto che sul mercato ci siano altri telefoni veramente di altissimo livello. Ma guardate, iPhone X è veramente un prodotto, secondo me, ad un livello di eccellenza notevole. So che molti di voi oppongono poi il tema del prezzo, quella è una valutazione che è del tutto personale su cui non posso entrare. Ognuno di noi ha una valutazione diversa su qual è il valore delle cose che si possono acquistare. Però, insomma, sulla qualità di questo smartphone non c'è assolutamente alcun tipo di dubbio.